Buongiorno a tutti, allora inizia la nottatona del gigione con le news, le col news, il calcio, perché c'è stata l'ultima, ieri, la seconda giornata per delle qualificazioni ai prossimi europei che si sono conclusi, poi ne parleremo di nuovo a giugno e poi dopo abbiamo anche lo sci, forse, perché ho preparato anche un'altra gara di sci, quindi nottatona, ma partiamo subito con le news ragasoli, allora parleremo dell'attore del film di Box che fa la parte del figlio di quell'altro che era l'antagonista di quell'altro che diciamo lo troviamo in un'altra veste, ecco, in un'altra, in una veste diversa, non fa più l'attore eccetera eccetera ma fa un incontro, un incontro chiacchierato. Poi c'è la conferma di quello che vi dicevo l'altro giorno, andiamo in Egitto ragasoli perché abbiamo la conferma su quella cosa che vi ho detto l'altro giorno, ce l'hanno confermata anche loro. Poi andremo a parlare di un film che arriverà direttamente il prossimo mese su Disney Plus e che riguarda l'eterno giovane, che è l'eterno giovane che vestiva di verde. E infine concluderemo con una novità che arriverà sul lago di Como, da Libidine, un super hotel da Libidine, doppia Libidine coi fiocchi. Sempre in quel paese di cui vi ho parlato ieri, di quel luogo carino dove andare a mangiare eccetera eccetera, sempre in quel paesino faranno questo mega hotel e ne parleremo. Ma iniziamo con la prima notizuola ragazzi perché Michael B. Jordan ha fatto la storia del Red Carpe del suo nuovo film Creed 3 con un video diventato virale in pochissimo tempo. Il giovane attore nonché regista della pellicola che chiude una trilogia sul pugilato si è trovato faccia a faccia con una reporter molto particolare. Sul volto molto espressivo di Jordan si è dipinto un chiaro riconoscimento nel momento in cui ha guardato in faccia l'intervistatrice Laurel. La conduttrice del podcast Undressing Room ha parlato della sua esperienza al liceo con Jordan raccontando. Sapete qual è la cosa più assurda? A un certo punto della mia vita sono andata a scuola con Michael B. Jordan e ad essere onesti con voi lo prendevamo sempre in giro perché si chiamava Michael Jordan. E poi veniva pure a scuola col cappuccio calato. Lo sfottevamo tutti il tempo. Ma cosa vai facendo con quello stupido cappuccio? E guarda dov'è adesso. Era un tipo simpatico ma ridicolo. Jordan ha riconosciuto la sua bulla e l'ha affrontata sul Red Carpet. Come sempre ringraziamo Cinematogra.it per questa bella estrapolazione di questa intervista con la bulla di Michael B. Jordan. L'incontro sul Red Carpet tra i due è stato abbastanza acceso ma non ha causato troppi disguidi al procedere dell'intervista che tutto sommato è andata avanti senza screzzi. Ah sì, io ero quello ridicolo, no? Ha detto Jordan. Ma Laurel ha negato tutto dicendo di non aver mai pronunciato quelle parole esatte. Eh ma io l'ho sentito, ha ribadito la star. Laurel visibilmente in imbarazzo ha cercato di metterci una pietra sopra con un'uscita piuttosto diplomatica. La conduttrice ha detto ti prendevamo in giro per il nome ma ovviamente ora stai spaccando tutto. Ma il resto dell'intervista riguardante la pellicola in uscita è venuta fuori in modo molto sciolto senza ulteriori battibecchi. Cricket è al cinema dallo scorso 3 marzo quindi probabilmente ancora disponibile quindi chi non l'ha visto può ancora forse andare fa ancora in tempo ad andarla a vedere perché magari girando nei cinemini magari c'è ancora perché adesso ci saranno magari altri film o magari no visto che comunque è uscito il 3 marzo non siamo ancora alla fine di marzo. Avatar è rimasto al cinema per un paio di mesi. Cricket è un film da libidine quindi penso che almeno fino a metà aprile lo trovate ancora nel cinema poi piano scomparirà usciranno i dvd i blu ray eccetera eccetera e poi apparirà magari per fine anno su sky o su altre piattaforme. Nell'arcast della pellicola c'è anche jonathan major grande antagonista in un altro film che appunto era in e forse c'è ancora perché mi sembra che sia ancora in sala anche quello Ant-Man and the Wasp Quanto mania Quindi perché la notizia è del 3 marzo Anzi del 2 marzo Però ragazzi miei Penso che sia ancora In giro Torniamo a parlare di Egitto Perché l'altro giorno vi avevo detto che Si parlava, si vociferava di questa tunnel E gli archeologi del Consiglio Supremo delle Antichità Hanno confermato il ritrovamento di un tunnel nascosto nella piramide Cheope in Egitto La grande piramide fu costruita dal faraone Knu Kufu Noto anche come Cheope Che fu il secondo faraone della quarta dinastia durante la prima metà del periodo dell'antico regno Ventiseiesimo secolo avanti Cristo Quindi vuol dire tra il 2600 e il 2500 La piramide è stata costruita nella necropoli di Gisa Sull'alto piano di Gisa Con la costruzione stimata di aver impiegato 27 anni per essere completata Inizialmente alta 146,6 metri La grande piramide è stata la struttura artificiale più alta del mondo per oltre 3800 anni All'interno della piramide ci sono tre camere conosciute Una camera scavata nella roccia Che appare incompiuta Mentre nella sovrastruttura si trovano la camera della regina e quella del re Attorno alla piramide ci sono due templi funerali Tre piramidi più piccoli per le mogli di Kufu Una piramide satellite diversa ma stabe per funzionari e nobili di alto rango In una conferenza stampa dello scorso 2 marzo 2023 I funzionali egiziani hanno annunciato il rilevamento di un tunnel lungo 9 metri Dietro l'ingresso principale della sovrastruttura piramidale La scoperta è stata fatta dallo SCAM Pyramids Project Uno studio multinazionale che utilizza le più recenti attrezzature scientifiche in termografia a infrarossi Fotogrammetria, scanner 3D e ricostruzione software Nell'annuncio Mostafa Uaziri Capo del Consiglio Supremo delle Antichità dell'Egitto Ha detto ai giornalisti che un tunnel è stato probabilmente costruito come elemento architettonico funzionale Forse per alleviare il peso della piramide sull'ingresso principale o su un'altra camera nascosta Che deve essere ancora scoperta Bene, abbiamo la conferma anche del Consiglio Supremo delle Antichità Adesso aspettiamo che scoprano le due cose Ma dopo l'Egitto torniamo a parlare di cinema Cinema però in streaming Non al cinema ma in streaming Peter Pan and Wendy È il nuovo lungometraggio in live action di casa Disney Che, come suggerisce il nome, riporta sul grande schermo il celebre classico della casa di Topolino Uscito nel 1953 Ispirato in particolare all'opera teatrale Peter Pan Il bambino che non voleva crescere di J.M. Burry La storia è difficile da dimenticare Una famiglia di Londra, i Dorling Che si trovano catapultati nell'isola che non c'è Il regno del bambino che non vuole mai maturare Peter Pan appunto Accompagnato dalla sua fidata compagna di avventure ovvero Campanellino Da poco, direttamente sul canale YouTube ufficiale di Disney Disney è stato caricato al primo 3 dell'ungometraggio Quindi dallo scorso 2 marzo Peter Pan e Wendy però sarà in arrivo a fine aprile 2023 su Disney Plugs E come sempre ringraziamo cinematograph.it per la libidine Mentre per quanto riguarda la questione del piramide di Cheope Ringraziamo Scienze e Notizie Ma proseguiamo Mentre con l'occasione Si è avuto la possibilità di vedere per la prima volta I personaggi di Peter Pan e Wendy E immergersi per la prima volta nel fantastico mondo di fantasia E che però stanno partendo le prime polemiche sul film Come riportati in particolare da movie player da cui la notizia è stata tratta La testata infatti raccogliendo opinioni in giro per Twitter Ha constatato che il pubblico non ha per nulla accolto in maniera positiva L'avvento della nuova Campanellino Interpretata da Yara Shaidi Di etnia nigeriana e iraniana Molti hanno attaccato questa decisione usando parole inequivocabili Tra chi ha sottolineato sarcasticamente che entro il 2030 tutti i personaggi Disney saranno neri A chi al contrario è contrario a tale via disneyana perché stravolge la mitologia europea C'è da dire che siamo nuovamente alle solite Vi ricordiamo che Peter Pan e Wendy arriva direttamente su Disney Plus senza passare dalla sala Con la produzione di Walt Disney Pishon e un cast composto anche da Alessander Moloni Nella parte di Peter Pan Ever Anderson nella parte di Wendy Dorling Judy Lowe che in persona Capitano Uncino E molti altri ancora La realizzazione sarà disponibile sulla piattaforma Disney Plus dal prossimo 28 aprile Quindi tra un mesetto esatto A fonte naturalmente Movie Player Ecco io sinceramente senza avere nulla contro le persone di colore ci mancherebbe Però Wendy Campanellino è sempre stata Non è che puoi farla diventare nera E' come se adesso a sto punto fanno Pocahontas La fanno bionda con gli occhi azzurri E che ne so E Biancaneve la fanno La fanno una bella Una bella negrona Una bella di quelle belle Con le belle poppone Da libidine Che proprio Ecco per intenderci No Pocahontas la fai così Quell'altro la fai così Secondo quello che dovrebbe essere Campanellino è sempre stata Perché devi Come anche la sirenetta La sirenetta me la fai Color cioccolato Sta nei mari Mi spieghi come fa Acromaticamente a diventare nera Che vive nel mare Come si abbronza Questo stravolgimento così Per il political licor Veramente non lo capisco Ripeto Personaggio è bianco Lo fai bianco Personaggio è di colore Lo fai di colore Personaggio è cinese Lo fai cinese Personaggio è giapponese Lo fai giapponese Un personaggio è azteco Lo fai Col colori aztechi Personaggio è un indiano Lo fai Pelle rossa Eccetera 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 In base all'etnia E tutto quanto Senza stare lì a guardare Perché sennò hanno ragione Tra un po' diventano Tutti di colore E va bene Non c'entra il razzismo Ragazzi C'entra un attimino Di geografia E' come se fai Un norvegese nero Ci sono Ma perché magari Il papà o la mamma La mamma solitamente Ha sposato l'uomo di colore E quindi il figlio Magari è Succede Ci mancherebbe C'è quella bellissima canzone Di Rosana Mazzotti In cui vedi Le nie che si scambiano No Il Il musulmano Con la bionda Le due ragazze Che si sbaciucchiano I due maschietti Che si sbaciucchiano Il figone Con il cessetto Che gli chiede di sposarla Eccetera 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 Quindi E' bellissima Quella canzone lì Vabbè Anzi il video Anche la canzone Ma il video E' bello Carino Poi anche i due anziani Che fanno vedere Due persone anziane Tanti anni assieme Ma passiamo a un altro argomento Ragasoli Si parla di hotel Hotel da libidine The Ritz-Carlton Un nuovo hotel estralusso Debutta a Bellagio Sul lago di Como Il lago di Como Si prepara a essere Il palconscenico In un altro importante Debutto nel mondo Dell'industria Dell'ospitalità Il ramo Comasco Si conferma Ancora una volta A livello mondiale Uno dei riferimenti Per il turismo Da libidine Cioè di lusso Mariot International Ha annunciato Lo scorso 28 febbraio 2023 La firma Dell'accordo Con Grimit SRL Per il debutto Di The Ritz-Carlton In Italia Grazie a un'impondente Riconversione Dell'Esso Hotel Gran Bretagne A Bellagio Il brand arriverà Sul lago di Como Una delle destinazioni Più popolari In Italia Con il suo servizio Impeccabile L'estetica Da libidine L'apertura Del The Ritz-Carlton Sul lago di Como È prevista Per il 2026 Indicivo Ora a tempo E la struttura Facciata sul lago Offrirà 59 camere E 46 suite Tra cui Due Ritz-Carlton Suite Con una splendida vista Sull'acqua E arredi Di lusso Il resort Disporrà Di un centro benessere Con piscina interna Ristoranti casual E raffinati E spazi Per meeting Ed eventi L'ampio parco E giardini In perfetto stile Lacustre Comprenderanno Un'area Per la meditazione Un bel sentiero Per lunghe passeggiate Una grande Piscina esterna E un molo Privato Per consentire Agli ospiti Di raggiungere Facilmente Le altre destinazioni Sul lago Siamo entusiasti Di annunciare Questa firma Con Grimit SRL E partecipare Al restaro Di una delle mete Più acclamate Dai viaggiatori Di lusso Queste le affermazioni Di Candace De Cruz Vicepresidente Lashery Brands Europe Middle East And Africa Il lago di Como È ognuno Dei fiori All'occhiello Della regione Normandia E non c'è luogo Migliore Per il delvuto Di The Ritz Carton In Italia Quindi lei È il vicepresidente Lashery Brands Europe Middle East And Africa Quindi Le comprende tutte Mega Direttrice Galattica Comunque Proseguiamo Dicevamo Che il lago di Como È uno dei fiori All'occhiello Della regione Lombardia E non c'è luogo Migliore Per il delvuto Di The Ritz Carton In Italia Questo progetto Dimostra Il nostro impegno Per far crescere Il brand Nelle destinazioni Più amate Dai nostri ospiti Oltre a rafforzare Il nostro portfoglio Di brand di lusso Marriott International In Italia Appena fuori Dal paese Di Bellagio Incastonato Tra i due rami Del lago di Como L'osteorico Belle Epoque Hotel Grand Bretagne Fu uno dei primi hotel Di lusso Della regione Inacurato Nel 1850 La struttura Cadde in disuso Alla fine Del secolo scorso E fu acquisita Dalla famiglia Galbusera Con l'obiettivo Di ripristinare La reputazione Dell'essalbergo Attraverso Un ampio progetto Di ristrutturazione Ed espansione Il piano di ristrutturazione Sarà uno dei più importanti Progetti di ampliamento Nell'area del lago di Como Degli ultimi anni Con una superficie Di 16.500 metri quadri Comporterà un restauro Completo Della proprietà Mantenendo intatta L'eredità storica Dell'edificio La nostra famiglia È profondamente Legata Alla zona Del lago di Como E siamo Orgogliosi Di far Debuttare Del Ritz-Karton A Bellagio Ha commentato Emanuele Galbusera Presidente Di Grimit SRL Lo spirito Imprenditoriale Di famiglia Ci ha resi Lidere europei Nel rivestimento Del metallo Attraverso Il nostro Business Lamp E siamo Entusiasti Di dedicarci Con la stessa passione A questo importante Progetto Del Ritz-Karton Bellagio Sorgerà In una posizione Strategica A 15 minuti A piedi Dalle principali Attrazioni turistiche Di Bellagio Come Punta Spartivento Villa Melzi E i giardini Di Parco Villa Serbelloni Il lago di Como È una destinazione Turistica Riconosciuta A livello internazionale Famosa Per i suoi panorami Le meravigliose Cittadine E le imponenti Ville Che hanno fatto Da sfondo A numerosi Film di successo Tra i quali Casino Royale E Ocean's 12 La destinazione È facilmente Raggiungibile Dall'aeroporto Internazionale Di Milano Malpensa In soli 90 minuti Di auto Bene Ragliasoli Quindi nel 2026 Chissà se ci saremo ancora Io speravo già Quest'estate Invece Ci vorranno Due anni Anzi Tre Tre anni Quindi Probabilmente Sarà pronto Per le Primavera Del 2026 Visto che La stagione Turistica Qua sul Lago Inizia Con la Pasqua Di solito Più o Meno Quindi All'inizio Della Primavera Poi dipende Quando arriva Pasqua A volte Arriva La Pasqua Quando arriva Arriva Quest'anno Arriva All'8 Di aprile Per dire Altri anni Capitava Al 15 Altri al 22 Altri Capitava A fine Marzo Dipendeva Come Li girava Loro Comunque Ragazzoli Vedremo Vedremo Ne parleremo Sicuramente Ancora A Dio Piacendo Perché Magari Tra tre Anni Vi dirà Ecco E' Sorto Chi lo sa Il futuro È un'ipotesi Diceva Quello là Il presente Mi dice Che adesso Chiudo questo Video E vi faccio Anche Le Call News Ciao Ciao